Accendi i motori, la sfida sta per cominciare. Partecipa a Time to Race, il torneo di Gran Turismo Sport su PlayStation 4. Sfida il tempo il 17 e 18 marzo negli showroom Mercedes-Benz. Ieri Montefalcione ha ricordato con una messa in suffraggio Emilio Ruggero. A dieci anni dall'improvvisa scomparsa nel santuario di Sant'Antonio si sono ritrovate le tante persone che hanno avuto la fortuna di conoscere e lavorare con quell'uomo leale e pieno di umanità, il cui ricordo resta indelebile. Per l'occasione il sindaco Belli ha annunciato che la piazza di fronte al comune di Montefalcione sarà intitolata alla memoria di Emilio Ruggero, dando così seguito alla delibera approvata dalla precedente amministrazione guidata dal sindaco Vanda Grassi. Era il 28 febbraio del 2008 quando si apprese dell'improvvisa morte a causa di un infarto di Emilio Ruggero a soli 41 anni. L'allora assessore provinciale era in Brasile per motivi familiari. Sarebbe dovuto tornare in Irpinia dopo pochi giorni dove lo aspettavano i genitori e il fratello. L'improvvisa morte lasciò tutti senza parole. Una brutta notizia arrivata come un fulmine al Cessereno che sollevò dolore e commozione in tutta l'Irpinia, ma soprattutto a Montefalcione, dove era stato sindaco per due mandati. Era stato eletto giovanissimo, a 28 anni, uno dei più giovani sindaci d'Italia. Consigliere provinciale, con la giunta Anzalone, assessore con Maselli, riconfermato nell'esecutivo della Desimune. Nella sua breve ma intensa vita politica e amministrativa si era sempre distinto come una persona attiva, anzi fattiva. Nel maggio del 2008 ad Emilio Ruggero è stata intitolata la Proloco di Montefalcione in occasione della presentazione della manifestazione per le vie del borgo. Lui era tra gli ideatori, promotori e sostenitori dell'iniziativa. L'amministrazione comunale, guidata dal giovane battagliero sindaco Emilio Ruggero, vide il concretizzarsi di tante importanti iniziative, tra le quali il restauro e il consolidamento del monastero, la realizzazione del progetto Casalbergo per Anziani Palazzo Troisi, il completamento della rete idrica per le campagne, quello per l'illuminazione pubblica su tutto il territorio comunale e la sistemazione di tutte le strade del Paese. Tante opere solo per il bene della comunità e del suo paese che Emilio Ruggero amava tanto e che di qui a breve gli intitolerà la piazza di fronte al municipio.